Conversazione con Salusa del 15 febbraio 2012 a Laura Tico. C'è una grande preoccupazione in questo momento, all'interno della grande anima umana. Quelli di voi che si stanno risvegliando, stanno cominciando a rendersi conto, di quanto sia facile essere uno. Non ci sono letteralmente barriere tra voi ormai. Siete tutti all'interno di ogni altro, non importa quale sia la distanza. Internet ha reso possibile per molti di voi, il riunirvi insieme, ma anche come esseri ascesi, state cominciando a prendere coscienza del proprio posto, e ruolo nell'universo. State esplorando nuove possibilità per voi singolarmente e collettivamente, come parte di un quadro più ampio. State anche iniziando a rendervi conto delle implicazioni della vostra unione, in questo momento, l'attuale agitazione, apparentemente, rappresenta il vento di libertà, che soffia in mezzo a voi. Mentre state cominciando a capire le vostre responsabilità, del come risvegliare le civiltà, che stanno diventando consapevoli degli errori passati, e stanno riparando a loro. Questi sono i tempi di guardare nel profondo, e prendere ciò che è necessario per diffondere quello che avete trovato dentro di voi. Guardate all'interno della vostra anima, regolarmente durante la giornata. La luce, che trovate dentro di voi, è parte del Dio creatore. Voi siete anche parte di esso, come tale, le possibilità sono infinite, molti di voi sono alla ricerca di risposte, siete alla ricerca di risposte spirituali e risposte concrete. Questo è un momento incoraggiante, come vediamo che si coglie il momento. Siate presenti nella vostra vita e il corpo, ad ogni passo che fate. Il perdono degli altri, inizia con voi stessi, perciò imparate, e perdonerete i vostri errori del passato. In realtà non ci sono cose come errori, questi sono solo esperienze, che sono necessarie, al fine di approfondire la vostra conoscenza. Questo è il tempo per la guarigione, e per la luce di penetrare all'interno del vostro corpo, al fine di orientarvi sul vostro quotidiano cammino. Durante la giornata, il quoziente di luce varia, questa a sua volta si manifesta, mentre voi avete diversi livelli di energia. Questi livelli possono anche essere visti, come diversi aspetti del vostro sé, atteggiamenti diversi, umori e personalità. Ciò che è necessario ora, è che vediate il livello di luce, che varia ogni giorno, ogni ora. Vivete la vostra forza vitale all'interno del vostro corpo, all'interno delle vostre osa. Lasciate che la pace guidi i vostri passi, la vostra vita, permettendo alla luce di andare dentro. Sappiamo che molti di voi, si trovano in situazioni difficili e ora, sappiamo che sono in giro molti dubbi, molta paura. Dovete essere forti, di fronte a tutti gli attacchi alla vostra luce, vedete gli attacchi per quello che sono. Gli attacchi sono una intimidazione volta, a porre in stato paura, e vi blocca lì, fino a quando non siete in grado di emergere, e di essere voi stessi. Questo è un momento in cui avrete bisogno di molta forza interiore, tanto amore e compassione, per il vostro essere e per chi vi circonda. Molta gente continuerà a vivere nella paura, per qualche altro mese, fino a quando il quoziente di luce della Terra, raggiungerà la massa critica, e toccherà tutti i cuori in una sola volta. Io sono il siriano Salusa e, vi invio tutto il mio amore. Grazie, Salusa, Laura Tico Indi Infos. Grazie.